Centro Provinciale Istruzioni Adulti Taranto, Corso Vittorio Emanuele 9, fondi strutturali europei, programma operativo nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020, hashtag cittadinanza attiva e consapevole, modulo didattico, hashtag eco cittadino. Tutor, professoressa Angela Potenza, esperto, professoressa Anna Marisa Conte, modulo didattico ABC dell'informatica, tutor, professoressa Anna Maria Castria, Esperto, professor Marco Pina Modulo didattico, hashtag cittadino competente digitale Tutor, professoressa Mercedes Corbelli, esperto, professor Alberto Amato Modulo didattico, English for us Tutor, professoressa Anna Maria Castria Esperto, professoressa Cinzia Maria Rosaria Perniola Modulo didattico, cinema con gli occhi degli altri Tutor, professoressa Arianna Crivelli Esperto, signor Gaetano Colella Modulo didattico, cinema, pane e lavoro e tutor, professoressa Paula Loiacono Esperto, signora Ida Mantellini Modulo didattico, il laboratorio per ripucire Tutor, professoressa Alessandra Piccaro Esperto, signora Nellina Conticello Modulo didattico, il mio canto libero Tutor, professoressa Stefania Chirico Esperto, professoressa Daniela Meli Modulo didattico, cieli immigrati, livello B1 Tutor, professoressa Angelo Oliva Esperto, professoressa Anna Marisa Conte Cosa ne pensi di questo con? È utile? E' utile interessante perché stiamo provando, come si dice, a scrivere, a ascoltare e le comprensioni ancora della grammatica, della conseguenzione delle cose in generale che per riportare bene il giocatore Modulo didattico, paesaggi muretti a secco Tutor, professor Leonardo Ferrara Esperto, professor Claudio Delos Reyes Investiamo nel vostro futuro